...di grado di preparazione. Secondo voi, se ci fosse un pittore, uno solo, no, da menzionare... ...a tutta domanda, non l'ha più avvisto la scaletta in Italia, ma c'era due... ...se ci fosse un pittore, chi sarebbe? A me Van Gogh piace un sacco per diversi motivi, il primo dei quali, ve lo faccio vedere... ...Van Gogh era una persona sensibile perché indossava i cappelli gialli. Guardate, in tutti i suoi autoritratti c'è sempre sto cappello giallo incredibile, non so neanche dove si venda... ...e poi le è successa questa cosa che è pazzesca, ad un certo punto a casa sua va a trovarlo Cocaine... Chi era il suo amico? E' come se a casa mia venisse Goldrick. Cocaine va a casa di Van Gogh. Se Van Gogh è trepitante e sensibile con lei, cosa fa? Compra... Compra... ...un... 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 ...dipinge... ...una cozzina di quadri di girasoli... ...però... ...però... ...perchè lo fa? ...perchè una persona sensibile sa che potrebbero appassire, lui non sa quando arriverà Gauguin. E allora io questi girasoli ve li voglio far vedere perché quella gente non ci crede che io sono in grado di materializzare l'arte. Signori, direttamente dal Metropolitano Museum di New York... ...i girasoli! ... 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